Una voltafaccia assoluta che mette a rischio elevatissimo una legge che produce un gravissimo danno politico che tra l'altro mette in condizioni di difficoltà un provvedimento che aveva un obiettivo chiaro, un provvedimento che voleva difendere i diritti di una minoranza ed è ancora più importante perché trattava i diritti di una piccola minoranza nel nostro paese che finora è esclusa da diritti che vengono riconosciuti in tutto il mondo, in tutto il mondo civile che vengono riconosciuti. Il Movimento 5 Stelle si deve assumere le sue responsabilità, fino a ieri ancora in commissione con il suo voto, ancora in questi giorni chiedeva rassicurazioni sul fatto se il Partito Democratico teneva in aula. Il Movimento 5 Stelle cambia parere, fa un dietrofronto improvviso. È una cosa molto grave e molto seria, è molto seria per i suoi effetti, per gli effetti di rischio, di rischio grave, ripeto rischio grave per un provvedimento che noi pensiamo veramente serba alla società italiana.